Un consiglio comunale, questa sera a Ponta Nossa, il conto consuntivo. Sì, tra le delibere più importanti di questa sera, all'ordine del giorno, abbiamo approvato il rendiconto della gestione finanziaria del 2015 che in sintesi può essere definita come una gestione dal nostro punto di vista intensa in quanto siamo riusciti per il terzo anno consecutivo a non indebitare l'ente, quindi non aumentare il debito dell'ente ma al contrario abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione per estinguere i mutui precedentemente accesi. Oltre a questo, per motivi di natura diversa, abbiamo ridotto l'organico dell'ente da 11 a 9 dipendenti ovviamente nei 9 dipendenti compreso il servizio tecnico esterno e anche la polizia municipale in quanto a Ponta Nossa ha un agente di polizia municipale e quindi questo lavoro sinergico direi tra l'amministrazione e anche i dipendenti che soprattutto appunto nel 2015 sono stati attori principali di una riorganizzazione direi dell'ente in quanto, come è risaputo, stiamo lavorando per quanto riguarda l'ufficio tecnico in gestione associata con Parre e con Premolo l'ufficio tecnico è unico, è centralizzato a Ponta Nossa, quindi tutti i dipendenti lavorano qui dei tre enti e nonostante non sia ancora obbligatorio questa gestione associata stiamo andando avanti in questo progetto e devo dire che i frutti adesso stanno arrivando. Oltre all'aspetto della gestione associata, il Comune di Ponta Nossa in particolare per adeguarsi e per poter dialogare al meglio con i due enti ha sostituito il software gestionale quindi appunto dicevo il lavoro intenso dei dipendenti che hanno così in poco meno di un anno sono passati a lavorare con un altro tipo di software che ci dà la possibilità di dialogare in maniera più snella con gli altri due enti. Questa gestione oculata direi ci ha dato la possibilità già da quest'anno di avere delle risorse libere, disponibili, quindi riusciamo comunque, abbiamo già approvato il bilancio di previsione che prevede tutti i servizi erogati in precedenza, in aggiunta ce ne sono altri come ad esempio lo spazio compiti per le scuole elementari e in particolare questa sera in Consiglio Comunale abbiamo approvato tre regolamenti che prevedono in sostanza tre tipi di incentivi che sono per tre anni, quindi per la durata del nostro mandato amministrativo, l'azzeramento totale degli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione, quindi in qualsiasi tipo di ristrutturazione o recupero di sottotetto quindi per quanto riguarda il patrimonio edilizio residenziale abbiamo deciso di azzerare, di annullare quanto è dovuto al Comune per quanto riguarda appunto gli oneri. L'altro, il secondo tipo di incentivo è un contributo a fondo perduto di 1000 euro per chi deciderà di acquistare la prima casa a Ponte Nossa, ovviamente ci sono dei paletti come ad esempio un limite di età che abbiamo fissato a 40 anni e il 1000 euro è a fondo perduto per sostenere le spese dell'atto notarile di acquisto appunto dell'immobile. Il terzo incentivo riguarda invece una sorta, l'abbiamo chiamato fondo per equativo, ma di fatto dà la possibilità per 5 anni a chi prende la residenza, quindi non solo chi acquista ma chi potrebbe venire a abitare a Ponte Nossa anche con un contratto di locazione e di affitto. Nel caso di un nucleo di una famiglia di una persona sola ha uno sconto sui tributi di tutti al Comune di 200 euro, mentre invece in un nucleo composto da più di una persona di 300 euro. Quindi se al Comune questi nuclei devono somme inferiori a questi due limiti di 200 e 300 euro, di fatto non devono nulla al Comune. Quindi noi ci tenevamo ad approvare entro quest'anno questi regolamenti, l'avevamo anche inserito nel programma elettorale, questi tipi di incentivi e secondo noi possono essere un segnale forte anche per i giovani in quanto il lavoro amministrativo dei Comuni deve anche, è rivolto anche e soprattutto ai giovani, bisogna in sostanza dare una sorta di messaggio positivo che c'è ancora la possibilità di vivere in montagna e in questo caso in Altavalle in quanto Ponte Nossa è il primo paese dell'Alta Valle Seriana. Noi siamo impegnati anche su vari fronti, su quei al lavoro che riguardano ovviamente la Cantoni e speriamo che entro la fine di quest'anno ci possano essere dei risvolti positivi anche per questa vicenda.